E siamo tornati secondo contenuto di giornata dopo l'analisi totale della partita, andiamo a focalizzarci sui giocatori, quindi sull'individualità di quelli che sono scesi in campo e che hanno portato poi a questa vittoria importante, lato Juve. Direi di cambiare subito schermata e quindi andiamo ad analizzare le pagelle di Torino Juventus 0-1, gol di Dujan Vlaovic, assist di Danilo su calcio d'angolo, andiamo nel dettaglio. Le pagelle sono offerte da Soccerment, avete già visto l'analisi della gara, vi ho già lasciato il link di Soccerment nell'ultimo video, ve lo lascio anche qui sotto in descrizione perché oltre alla piattaforma di Analytics e vedremo se sarò d'accordo con queste pagelle più o meno, sì, no, non lo so, nel video vi dico ovviamente tutto, vi invito anche ad andare a cercare XSeed che è il nuovo parastinco intelligente, quindi un device che vi potrà accompagnare nelle vostre partite proprio sul campo, quindi potete analizzare anche le vostre performance esattamente come stiamo facendo su YouTube con quelle della Juventus, con i calciatori singoli, con tutti i dati raccolti da Soccerment. Vi invito a passare qui sotto in descrizione, fateci un salto. Ad Allegri abbiamo già dato il voto nell'ultimo video, se l'avete già visto bene, se non l'avete ancora visto, ve lo lascio qui sopra nelle schede. Chesney, voto 6 perché io di Chesney mi sono reso conto quando Valentino Lazzaro, l'ex Inter all'estero del Torino, è passato su quadrado, ha messo quel pallone lì e Chesney si è fatto trovare pronto sul suo primo palo perché poi Mirancuc magari ha avuto delle occasioni, Vlasic ha avuto delle occasioni ma non hanno praticamente mai beccato lo specchio della porta, hanno sempre tirato molto alto, quindi il 6 di Chesney è un 6 molto tranquillo perché è stata una valutazione basata sul niente, nel senso che non ci sono state delle vere e proprie parate. Meglio così, perché vuol dire che comunque abbiamo retto bene e che comunque il Torino è stato abbastanza impreciso. Voto 6 a Bremer, l'ex che purtroppo si è fatto male, è uscito per un pizzicorio, un pizzicore, una pizzicata dietro alla coscia, non era stato chissà quale tipo di partita però, ribadisco, il Toro ha dei grandi demeriti ma anche perché aveva delle grandi assenze comunque davanti, era oggettivamente complicato riuscire a farsi male da questo Toro, da quello che è sceso in campo. Bremer ha retto bene, si porta a casa il 6, alla prima dex tra l'altro anche fischiato, all'uscita dal campo, passi dal Toro alla Juve, non te lo perdonano, mi sembra abbastanza logico. 6 e mezzo a Danilo che, l'abbiamo detto prima, con il colpo di testa, quella spizzata sul calcio d'angolo, mette la palla perfetta sul secondo palo dove arriva Vlaovic, la prestazione è stata buona da parte di Danilo in generale e quell'assist è molto importante perché quello appunto è l'assist da tre punti, non l'assist da più uno al pantacalcio ma più tre alla Juventus, quindi altra buona partita di Danilo, dove lo metti sta, può giocare a quattro, può giocare a tre, può giocare in mezzo, può giocare esterno, può giocare dove vuoi, la sua buona partita se la fa sempre, poi se inizia anche a fare assist diventa un giocatore sempre più importante. 6 e mezzo ad Alexandro, ora qui qualcuno non sarà d'accordo, ma nella triade, diciamo così, nel terzetto difensivo tutto brasiliano schierato dalla Juventus nella difesa 3, Alexandro per lunghi tratti di partita mi è sembrato quello più in forma, più dentro la partita, più lucido, più attento. Quando dicevo questa roba su Twitch mi sono beccato un po' di insulti, voglio sapere anche da voi se avete avuto questa stessa sensazione perché a me Alexandro è piaciuto, cioè è ovvio che Danilo rende più preziosa la sua partita con quella spizzata appunto che vale l'assist, però si deve analizzare proprio solo la partita dal punto di vista difensivo, Alexandro anche una bella cavalcata nel primo tempo ad aprire il campo per cercare di creare un'occasione della Juve, ma in generale forse lui ha perso quel passo che aveva una volta che lo rendeva un giocatore offensivo, un passo indietro e quindi centrale, braccetto di una difesa 3 potrebbe essere davvero il suo futuro, ricordo che la prima volta che era stato utilizzato lì da Pirlo mi sembrava una follia, oggi invece mi sembra forse più la sua dimensione, che possa essere una seconda vita per Alexandro, che questa cosa possa allungargli la carriera? Non lo so, soltanto il tempo ci darà questa risposta, ma Alexandro ieri mi è piaciuto. Voto 6 a Locatelli che è stato probabilmente il giocatore insieme a Vlaovic che ha avuto più occasioni da gol per quanto riguarda la Juventus, in generale la partita di Locatelli non mi è piaciuta troppo, perché lì davanti alla difesa secondo me sta continuando a fare tanta 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 fatica, sta continuando a galleggiare piuttosto che a nuotare, però quei due interventi, quei due tiri verso lo specchio della porta, quelle due volte che ha chiamato in causa Milinkovic-Savic sono state uno squillo importante da parte di Locatelli che secondo me non può essere valutato in maniera insufficiente, ma nemmeno troppo di più rispetto a un 6 abbastanza rotondo di sufficienza pura. Voto 6 a Rabiot, non mi è dispiaciuto, da dire la verità lui è stato uno di quelli che insieme a Vlaovic e a Locatelli è entrato all'interno di quella macro occasione del primo tempo, anche un bel tiro in porta forte da parte di Rabiot, il solito lavoro all'interno del centrocampo, non una partita appariscente da parte del francese, il 6 lo porta a casa, secondo me il centrocampo è stato un po' il punto debole, per centrocampo intendo proprio il terzetto dei centrocampisti della Juventus, che infatti tante volte è andata con il lancio lungo ad aprire sugli esterni, quadrade costici un po' più alti rispetto al solito, oppure cercare direttamente gli attaccanti. Non mi è piaciuto McKennie, non mi è piaciuto McKennie, ma mi è sembrato molto fuori dalla partita, lui e Moise Kemi sono sembrati due giocatori più isolati in generale all'interno della Juventus, ma più che altro perché la McKennie ancora sta facendo un po' fatica a capire qual è la richiesta che viene fatta a McKennie, che è stata sì una mezzala di destra, il centrocampo a tre, magari ogni tanto comunque si allargava, per ricordo di quelle che sono le richieste dell'ultimo periodo, però nel concreto se dovesse toccare la prestazione di McKennie, che cosa tocco? Secondo me niente, poco, anche fuori condizione, ancora atletica, fisica. Mi domando, se McKennie, che fa delle prestazioni del genere, è titolare, le gioca tutte, non salta nemmeno un minuto, mi retti che in questo momento è stato messo fuori delle gerarchie? È davvero così indietro rispetto a McKennie? Faccio anche un po' fatica a credere a questa cosa qui. Quadrado voto 5, ennesima partita che finisce, e se penso alla prestazione di Quadrado mi viene in mente una parola chiave, involuzione, perché Quadrado, è ovvio che se ti fa quel gol nel primo tempo, con quel doppio passo, è che se la porta sul mancino e tira in porta, palla che esce, la partita di Quadrado diventa più preziosa, perché quello spunto lì vale tanto. Però in fase di non possesso si fa saltare spesso, in fase di spinta forse un po' troppo timido, c'è una bella apertura per Kostic che poi mette quella palla per Ken, e c'è quell'erroraccio, però la prestazione di Quadrado secondo me non è stata preziosa in generale, è stata una prestazione insufficiente. Oggi era anche l'unico esterno destro, meno male che potevamo schierare, quando infatti sembrava si fosse fatto male al ginocchio, ero così perché ho detto e adesso che cosa facciamo? Ovviamente esterno destro a 3-5-2, però Quadrado mi sembra sempre un lontano parente rispetto al giocatore magnifico che abbiamo ammirato in tutti questi anni di Juventus, mi manchi tanto qua. Se è mezzo a Kostic, mi è piaciuto Kostic, a me Kostic è piaciuto, è stato il giocatore forse più pericoloso della Juventus, non per le occasioni che ha creato, che si è creato lui, ma per quelle che ha creato per i compagni, perché appunto quell'assist a Moise Ken, quell'assist a Vlaovic, diversi altri palloni messi in mezzo, un po' troppo impreciso? Sì, ancora, per l'ennesima volta, però in generale Kostic delle occasioni potenziali li ha create, poi se gli altri non sono bravi a buttarle dentro, Kostic può farci veramente poco, però due o tre palloni interessanti serviti agli attaccanti li ha messi e forse è anche questo il motivo, no? Per la prima volta Kostic, o una delle prime in bianco-nero, ha giocato davvero da esterno nel 3-5-2 e qualcosa di più l'ha messa a disposizione, qualcosa di più l'ha fatta vedere, quindi può essere questo il motivo? Non lo so, forse sì, forse no, anche qui soltanto il tempo, ce lo dirà. Moto 6, mezzo a Dujan Vlaovic, che probabilmente è stato anche un po' sprecone, perché nel primo tempo poteva fare benissimo quel gol che si fa parare da Milinkovic-Savic con una gran reazione del portiere, una delle prime, forse la prima parata di una serie incredibile di parata del portiere del Toro, però Vlaovic ha fatto una prestazione secondo me anche da leader, tanti errori, anche spalla alla porta, un po' in precisione gli appoggi sì, però tanto più dentro la partita, tanto più dentro il campo, tanto più dentro nello sviluppo dell'azione e secondo me le immagini principali della partita di Vlaovic, oltre al gol da centravanti puro, da attaccante che sa che la palla finisce lì, sente che la palla finirà lì e quindi vado a chiudere sul secondo pallo perché lì la palla ci arriva, quando sbaglia Ken quel gol lo vado a bracciare, quando viene sostituito rimane in piedi, rimane a incitare i compagni, parole da leader anche nel finale della partita, oggi Vlaovic secondo me si è esaltato rispetto al suo standard, non so se è perché non c'era Milink e quindi sentiva un po' più sua quella posizione di giocatore che doveva andare a raccordare il gioco sull'altra quarti non lo so, ancora un po' troppo fuori dall'area di rigore, ancora un po' troppo impreciso sottoporta ma oggi ha avuto l'occasione di fare tre gol, la parata di Milinkovic Savic all'inizio, il colpo di testa ancora una volta parata da Milinkovic Savic dopo il bel assist di Kostic e il gol che effettivamente va a segnare. Da queste tre occasioni che gli arrivano la partita secondo me devono arrivare in almeno sei o sette perché Vlaovic è comunque ancora lì in corsa per la classifica a cannonieri nonostante tutto, nonostante il momento della Juve, quindi il 6 e mezzo se lo porta a casa perché ho visto anche qualcosa di diverso proprio nell'atteggiamento di Vlaovic, forse uno dei pochi dei quali posso dire castro l'atteggiamento, Vlaovic, Kostic, forse Danilo dicevano prima, Alexandro non tanto per atteggiamento ma per quello che ha dato in campo, gli altri ancora un po' lontani da quello che volevo io, ma Vlaovic è sicuramente uno dei migliori sotto questo punto di vista e Moise Ken invece non mi è piaciuto. Mi dispiace perché nelle ultime due partite invece ero qui a dirvi è entrato in un certo modo, l'ho visto diverso, quel gol sbagliato sicuramente pesa tanto nella valutazione, aveva fatto anche un bel assist a Vlaovic appunto in occasione del primo tiro verso lo specchio della porta con la parata di Savic, ma secondo me ancora troppo poco per quella che è la prestazione di un attaccante della Juventus che ormai va a avere i 23 anni e che ha un valore di mercato molto elevato, che ha un riscatto obbligatorio, la Juventus è riscatto obbligatorio nei suoi confronti, giocatore che non è titolare, che quindi queste partite in cui parte titolare dovrebbe sfruttarle per cercare di trovare quel sorpasso all'interno delle gerarchie. Invece è un'altra prestazione che mi fa semplicemente scuotere la testa e dire, ma Moise Ken? Che tipo di attaccante, che tipo di giocatore è per la Juventus? Peccato, peccato perché poteva essere un'altra partita. Sei a Bonucci che quando entra si mette lì, fa il suo, niente da dichiarare. Sei abbastanza politico e sei anche a Milic che, adesso esagero perché sono consapevole di esagerare, però esce Ken, entra Milic e lui fa gol. Non c'entra niente il fatto che sia entrato Milic, non c'entra niente il fatto che esca Ken, però mi ha fatto sorridere che il gol sia arrivato esattamente in quel momento lì. Poi Milic fa una partita preziosa di sponde, di lotta nel finale, quando c'è bisogno di tenere il pallone alto, quando esce anche Vlaovic, però non ha l'opportunità, non ha l'occasione di tirare praticamente mai in porta, perché lui dopo che trova l'1-0 dice, vediamo Barak Burattini, chi si è visto si è visto, giù la sera cinesca, Vlaovic, vieni, 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 entra Paredes, che ha giocato troppo poco per avere una valutazione, la Juve si porta a casa la partita, ma probabilmente serve fare qualcosa di più per le partite future, perché il Torino oggi è stato poca roba, non so quante altre squadre in Serie A ti permetteranno di fare una partita di questo tipo in futuro, per oggi va benissimo, perché i tre punti ci servivano, però sono cose che devono rimanere qua, nella testa dei calciatori, nella testa dell'allenatore, lavorare ancora per migliorare questa situazione, perché la crisi non è finita, assolutamente no, guai a pensare a questa cosa, perché questa vittoria è stata meritata, ma per quello che vedo io poco convincente.